Musica Siamo con Luca Prospero, presidente dell'Asso Soliera, assiduo frequentatore degli Shark Appena uscito? Appena uscito, con 8-9, una bilatera al flop, ormai ero corto perché sono salito dal tavolo televisivo che ero con circa 70.000 Purtroppo qui ho perso 2 set over set quindi non è andata benissimo, ho rischiato questa mano con una bilatera però non è uscita e quindi sono uscito C'è un motivo, sentivo prima nella saletta fumatori che c'era un attimo un history con un giocatore che risava continuamente Giustamente io essendo corto ogni mio bet risava continuamente allora ho detto vabbè me la gioco, vedo se posso rischiare, non è andata bene però è giusto così, non potevo aspettarmi di meglio Adesso cosa farai? Ti prenderai un po' di pausa oppure ti iscriverai a un side anche domani? No, no, non lo so, in questo momento non so cosa faccio Vabbè, si è appena uscito, non è la domanda E poi c'ho Andrea Torri che è ancora in gioco quindi vedremo se è almeno uno dei due visto che in novembre lo Shark è stato nostro Sì Siamo arrivati vittoriosi quindi vediamo se mette un'altra bandierina lo Shark Senti in generale ti sei divertito, il tavolo era piacevole sia quello televisivo che poi quando sei risalito oppure? Allora, quello televisivo era molto più piacevole perché avevamo un don, un capodong di Ludovico che ci ha fatto divertire Ci ha fatto divertire, ci ha fatto divertire, naturalmente lo dico scherzosamente perché Ludovico di poche feste è un amico quindi ho la fortuna di conoscere tantissima bella gente quindi ci ritroviamo qui per il caffè Esattamente E vogliamo dire qualcosa agli amici rimasti a casa o a chi ancora non ha partecipato a uno Shark? Allora, vedo che da novembre quando Guidetti arrivo primo i satelliti cominciano a salire, a crescere Questo mi dà enorme gioia perché con 25 euro vincere un satellite, arrivare qui e vincere un torneo dello Shark che è molto bello tutti gli anni, è bellissimo È davvero una cosa molto bella quindi chi non viene si perde un grandissimo evento Bene, lei ha fatto proprio uno sponsor Lo spero, lo spero Qui c'è un mio collega che è il vicepresidente che è uscito con una coppia di assi e è ancora in brucio quindi mi dispiace per lui Sono uscito anch'io Ecco, quindi siete in buona compagnia Adesso ci bruciamo a vicenda Assolutamente, vi racconterete come il classico insomma Va bene Luca, ti ringrazio ancora una volta Voglio salutare tutti i miei soci di Asso Soliera Assolutamente sì Saluto tutti i soci di Asso Soliera, in particolare saluto mia moglie e i miei figli E tutti quelli dello Shark Mi ricordo che la scorsa volta ti eri dimenticato Mi eri dimenticato l'anniversario Com'è andato il ritorno? Mi so fatto perdonare Bravo, bravo Allora salutiamo la moglie e la famiglia Grazie Grazie Luca Grazie Ciao